Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Anche oggi una storia poco conosciuta ma dal grande significato motivazionale che ribadisce quanto dicevamo alcuni giorni fa. In fondo ci troviamo di fronte sempre di più, scopriamo sempre di più che vi sono dei nuclei tematici motivazionali, quasi che ci fosse una sorta di coerenza, togliendo il quasi ovviamente dal mio punto di vista, ma empiricamente lo scopriamo insieme giorno dopo giorno. Una coerenza che ci mostra come vi siano delle categorie ben definite, dei gruppi ben definiti, dei nuclei appunto ben definiti e che tutte le esperienze o la maggior parte delle esperienze possano ricondursi a quei nuclei motivazionali definiti che non sono infiniti, ma le cui applicazioni sono infinite come infiniti sono gli esseri umani o perlomeno molto numerosi sono gli esseri umani e le loro storie. Abbiamo anche già visto come sono tre le categorie di azione essenziali su cui si muove la motivazione. C'è la categoria conscia, l'azione conscia, c'è l'azione subconscia, c'è l'azione superconscia e anche in questi ultimi giorni abbiamo avuto prova di queste tre categorie. Per esempio Anna Kulishoff, per esempio Antonia Brico e per esempio la storia che raccontiamo oggi hanno come categoria principale l'azione conscia. Invece abbiamo avuto occasione di apprezzare John Newton e il suo inno Amazing Grace ed ecco che abbiamo potuto apprezzare l'azione superconscia, spirituale. E la motivazione che ci è venuta dal poeta Walter D. Wintle riguardava certo l'intenzione conscia ma aveva a che fare con la programmazione subconscia. Vi ricordate, l'uomo che pensa di vincere è colui che vince. Ovviamente il pensiero è un pensiero che si imprime a livello subconscio. Tre categorie che abbiamo definito e alcuni nuclei tematici che in futuro ci impegniamo a definire, che ci vuole un po' più di tempo a definire, ma non è impossibile farlo. Un'altra cosa che abbiamo detto e mi preme ribadirla è il fatto che sempre di più scopriamo storie più che parole o insieme alle parole scopriamo storie. E le storie delle persone valgono più di mille parole perché ci raccontano esperienze vere di vita autentica che riguardano anche noi. ci parlano di persone che sono come noi e che hanno raggiunto risultati che oggi anche sono stati dimenticati, ma che restano nella memoria, restano nella storia, ma soprattutto restano nella loro esistenza. hanno dato compimento, realizzazione alla loro esistenza, un senso profondo, ricco. Questa è la vera ricchezza che scopriamo. La vera ricchezza che ci racconta la storia di oggi. La storia, se non del primo, sicuramente di uno dei primi grandi chef francesi. Lui si chiama Marie-Antoine Carême, detto Antonin, e ho trovato la sua storia nel mensile storica, in particolare nel numero di marzo 2021. Da qui trago i passaggi che vi vado a leggere e alcuni giorni fa abbiamo parlato di lezioni di piano e mi pare che un buon sottofondo sia proprio il brano celebre, celeberrimo, di Michael Neiman, di lezioni di piano. De Pieno. Marie-Antoine Carême, detto Antonin, nacque a Parigi l'8 giugno 1784 da Marie-Jean Pascal e Jean Gilbert Carême. Non si sa molto di loro. Si sa però che erano una famiglia molto numerosa. Pare infatti che la coppia avesse generato fra i 15 e i 25 figli. Antonin visse in famiglia fino a un'età compresa tra i 9 e i 12 anni. Dopodiché, secondo la leggenda, il padre lo portò a pranzo in una trattoria e saldato il conto si congedò dal figlio con queste terribili parole. Questi sono gli ultimi soldi che posso spendere per te. Non si rividero mai più. Il bambino vagò per le strade di Parigi, la capitale di Francia, finché trovò un lavoro e un tetto accogliente presso un rosticcere dove prestò servizio fino ai 15 anni, cominciando la gavetta come sguattero. Nel 1798 proseguì il suo apprendistato entrando a servizio da Sylvain Bailly, rinomato pasticcere, il cui locale si trovava nella zona del Palais Royal. All'epoca la pasticceria era considerata il gradino più alto della scala gerarchica della ristorazione e i maestri pasticceri godevano di una grande reputazione. Negli anni trascorsi al servizio di Bailly, il giovane Antonin apprese le basi di quella che era chiamata anche l'arte bianca e via via si impadronì di tecniche estremamente complesse, sempre più complesse, come quella della decorazione, della torta a strati o della riproduzione di edifici dell'antichità classica in zucchero e marzapane, alcuni dei quali, pensate, superavano il metro d'altezza. In particolare, quest'ultima tecnica, nota come tecnica delle pièce montée, lo portò a interessarsi sempre più all'architettura, tanto da arrivare a considerare la pasticceria come la branca principale dell'architettura. Bailly in qualche modo favorì l'inclinazione del suo apprendista, permettendogli di ricavarsi del tempo libero per andare a studiare le antiche rovine sui libri di storia di architettura. Fu così che Carême si appassionò alle opere dei grandi maestri del passato, come Palladio o Il Vignola. Ed ecco che il nostro eroe aprì allora la sua prima pasticceria. Fu Boucher, lo chef del ministro degli esteri Charles Maurice Tailleran Perigaud, a scoprirne le doti e a volerlo con sé. E fu lo stesso importantissimo politico francese, basandosi sulla qualità del lavoro di Carême, a proporgli di diventare collaboratore nei catering diplomatici, appoggiandosi alla rinomata pasticceria Gendron. Il sodalizio fra Carême e Tailleran durò ben dodici anni e, nonostante le differenze di rango, fra i due si creò, se non un'amicizia, perlomeno un rapporto di stima e simpatia. E quando Napoleone, che pare non amasse la tavola, nel 1804, affidò a Tailleran il compito di occuparsi dei banchetti diplomatici, Tailleran scelse Carême. Ma non gli diede certo carta bianca, anzi gli chiese di preparare ogni giorno un menù stagionale e con i soli prodotti del territorio senza mai ripetersi. Una sfida insolita per un'epoca in cui le tavole altolocate offrivano piatti esclusivi e costosi. Dal canto suo, Tailleran, durante gli anni della loro collaborazione, aveva richiesto allo chef di combinare nei suoi piatti raffinatezza, sobrietà e al contempo capacità di sorprendere. Da queste grandi sfide poste allo chef nacque l'alta cucina che Carême avrebbe raccolto in una pubblicazione in cinque volumi uscita nel 1833 dal titolo L'Art de la Cuisine Française e pensate che al nostro eroe viene attribuita l'invenzione della divisa da cuoco e del toc blanche, il cappello alto indossato ancora oggi dai grandi chef. Già in passato i cuochi usavano dei copricapi ma il nostro Carême ebbe l'idea di inserirvi un pezzo di cartone per tenerli alzati in modo da permettere una maggiore aerazione del capo e di conseguenza di limitare il sudore. Che ne dite? Non è una storia straordinaria e non è soprattutto la storia di un uomo che ha vissuto la sua vita al massimo grado che ha vissuto la sua vita nella sua massima espressione che ha vissuto la sua migliore vita? Questa è la vita che vale la pena di vivere. Mi auguro ci auguro che questa sia anche la nostra vita la vostra vita. Bene cerca di portare in azione queste parole queste frasi questi insegnamenti nella tua vita di oggi affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso di energia di motivazione di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna. Grazie a tutti. Grazie a tutti.